Gnè! 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 Volevi! Succa! Commisto, vai, dai! Ti voglio sentire! Ti voglio sentire adesso! Ok? Ci hanno rubato la partita, ok? Con 4R e 5P! Ha rubato! Succa! Allora, il primo che mi dice che il gol ha annullato la fiorentina è scandaloso e non dice che se l'hanno annullato uno a noi, clamoroso, è un buffone! Lui di calcio non capisce un cazzo! Allora, com'è? Gnè! Gnè! Vi vedevo i guffi, tutti lì un po' lagliati i guffi! Gnè! Gnè! Volevate? Gnè! Invece Succa! Brava Juve! Brava! Cazzo! Una vittoria finalmente! Bella! Comunque, adesso, Allegri, mi sei piaciuta a parte una cosa! Gli ultimi al 73esimo non mi puoi elevare all'attacco titolare! Perché hai visto? Ci schiacciamo e poi PAM! Oggi c'è andata bene, ma di solito PAM! Però, oggi, formazione perfetta all'inizio! Bravo, ci ho fatto vogliare, non è annullato! Vabbè, giusto! Giusto! Perché c'è il capello in fuorigioco! Bene! Allora, uguale! Il tacchetto! Il tacchetto! Ok! Commisso! Ok! Com'è? Commisso! Come? Come? Ci hanno arruba... Arruba! Aspetta! Arruba! Com'è? 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 Commisso? Com'è? Ma torno in America e non rompere i coglioni! Pezzo di un pagliaccio! Vate a fare il parrucchino, minchione! Gnè! 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 Invece! Suoca! Un bacione dal doc! Iscrivetevi al canale! Dai ragazzi! Dai!